Oggi vi presento il libro illustrato, ossia una graphic novel, di Alessandro Tota, si intitola Caterina e i capellosi, edito da Canicola. Case sull'albero super accessoriate, acrobazie spettacolari e un viaggio rocambolesco per salvare un amico in pericolo sono la quotidianità per Caterina e la banda dei capellosi. Sovversiva come picpi calze lunghe, cocciuta come mafalda, dentro la chioma potrebbe nascondere un mazzo di fiori, un nido di pernice o un cerbottana. Caterina è una bambina che non teme nulla e nessuno, a parte il parrucchiere. Questo libro è Caterina e i capellosi di Alessandro Tota, edito da Canicola.